ciao e benvenuti sul canale youtube di giochi sul nostro tavolo oggi procederò con il disinscatolamento di bioviva junior il gioco naturalmente divertente forse bioviva l'editore francese questo è un gioco la versione diciamo junior di un loro cavallo di battaglia ed è adatto dai cinque anni prodotto interamente in francia un gioco ecco progettato a produzione responsabile 130 sfide per scoprire il mondo vediamo se ci sono le classiche icone allora non ha dato i bambini finora nei tre anni vabbè da due a quattro giocatori di età 5 più durata sulla ventina di minuti ecco una composizione di come si presenta un plano in sfero delle carte delle plance tre tipi di sfide le meraviglie della terra lo zoom sul mondo e impronimali contenuto un tabellone puzzle 12 gettoni e 24 punti viva quattro cartelle ambienti e continenti 128 carte quattro piedine di legno a goccia tre dadi di legno un regolamento del gioco non c'è traccia di autore e illustratore allora diamogli una misurata e poi apriamola allora siamo sui 17 centimetri e 2 per 15 e 2 e una profondità di 7 centimetri e mezzo il gioco la scatola non è incelofonata ma questo incredibile bollino che ora procederò a rimuovere ecco l'aiuto per il taglierino finisce lo taglio e pace bene scatola che si apre un po a scrigno qui abbiamo un paio di quelle gocce menzionate sul retro le carte dadoni nudi un'altra goccia ecco allora quattro gocce le abbiamo recuperate sono segnalini a forma di goccia quattro colori giallo fucsia verde e marrone poi abbiamo quattro dadoni nudi sono in legno misurano 25 mm di lato qui abbiamo il foglio con gli sticker con gli adesivi questo è un dado dado 1 questo è il dado 2 e questo è il dado 3 sarebbero per le varie prove questa vuol dire che esce la prova di mimo qui la prova del della della posizione geografica e qui quella sul con le domande questa riguarda il mimo si mima l'animale quando cammina quando mangia quando dorme quando incontra gli altri animali o scelta libera tra le altre questo invece è il dado a per se l'ho confuso forse questo quello per le mimate al rallentatore all'indietro qua è permesso no entrambi valgono quando ci sono due due dadi da tirare quando si deve in mare entrambi entrambi sono validi qui è quando appunto rallentatore all'indietro qui sono permessi i versi oltre a mimare qui si finisce con un fermo immagine qua si deve imitare l'animale quando è un cucciolo e qui una scelta tra le precedenti vediamo vedere il resto dei materiali ci sono delle fustelle questi saranno i famosi punti viva qua ci sono tre tragettoni tondi per colore più un po di triangolini pubblicità di altri giochi bioviva ecco qua regolamento in italiano e qua la lista di materiale il tabellone puzzle tre dadini 24 punti viva e 12 gettoni ok quindi i gettoni sono quelli tondi e i punti viva sono quelli a triangolino l'anisfero qui abbiamo le sfide allora punto di domanda arancione era meraviglie della terra in cui bisogna trovare l'animale dove vive sia come tipo di ambiente sia come zona del del mondo e si hanno tre pedine da piazzare ecco quindi i tre gettoni colorati a cosa servono sono i tre gettoni che si possono piazzare durante questa sfida sulla propria plancia adesso andiamo a vedere ok per dire se l'animale si trova in una zona di acqua foresta temperata taiga foresta tropicale praterie savana montagna deserto neve ghiaccio e in quale zona del del planisfero si trova e in asia in oceani in europa in africa in america del sud in america del nord e dappertutto avendone tre si può piazzarne uno qui uno qui e un terzo in un altro posto se l'animale compare in più in più di più d'una di queste caselle si può piazzarne anche nessuno valore intermedia a seconda di quanto si assicuri quanto si conosce l'animale che è uscito poi qui ci sono le tessere tabellone magari possiamo provare a comporre ok non è un puzzle complicatissimo è il planisfero in sei tesserone praticamente incastri vanno dentro tranquillamente stranamente qui non c'è qua è dritto ok qui ci sono le zone le iconografie riportate su questa carta qui quindi qui a livello di illustrazioni si trovano in giro per per il planisfero e qui insomma le zone geografiche sono i vari continenti più il mondo intero riprendiamo da qui allora avevamo detto appunto le meraviglie della terra che si tratta di andare a beccare dove per ogni risposta giusta si guadagna un punto viva eccoli qui triangolini poi abbiamo qui c'è la spiegazione degli ambienti e del planisfero poi abbiamo lo zoom sul mondo in cui si estrae una carta e si cerca di beccare a dove corrisponde sulla mappa piazzando il proprio segnalino goccia e poi ci sono gli impronimali che è quello che accennavo prima in cui c'è il dado situazione che indica che situazione si trova l'animale da mimare e il dado costrizione che è un vincolo su cui a cui sottostare appunto durante il mimo si vince quando si arriva a un certo numero di punti viva a seconda del numero di giocatori e c'è la possibilità di dare più difficoltà agli adulti e un aiutino ai più piccoli andiamo a vedere le carte e non sono incelofanate così basta togliere l'elastico allora qui abbiamo le carte per la prima sfida con la soluzione sul retro sia del tipo di ambiente che del luogo così via animali più o meno noti non ci sono solo animali ci sono anche luoghi e monumenti piante qui abbiamo le carte con il secondo tipo di sfida quello da andare a individuare sulla mappa con la sua soluzione sul retro ok insomma qui ci sono tutti i dettagli del planisfero infine l'ultimo tipo di sfida quello del mimo ecco abbiamo la foto queste vanno tenute a faccia in giù e pescate dal giocatore a cui è uscito questa sfida la pesca coperta la guarda poi deve mimarla agli altri giocatori appunto con i vincoli con le costrizioni con il momento usciti sui due dadi sono carte rettangolari e spigoli vivi diamo una misurata sono 6 cm per 8 cm e 8 cm bene detto questo non ci resta che provare il gioco con ambra e poi recensirlo sui giochi sul nostro tavolo grazie a tutti